Ciao bassisti! Nell'ultima puntata abbiamo realizzato una linea di basso utilizzando soltanto tonica quinta e ottava. Oggi aggiungeremo un intervallo, la terza maggiore, andando così a costruire la triade maggiore. Dopo aver visto cos'è e dopo aver studiato le triadi maggiori nei primi quattro tasti dello strumento, andremo a utilizzarle per fare musica. Ma prima, sigla! Eccoci qua già armati di strumento quest'oggi per parlare di questa triade maggiore. Nelle puntate precedenti, diciamo così, abbiamo parlato di intervalli e abbiamo detto che la nostra ottava si divide in dodici semitoni uguali, che compongono la cosiddetta scala cromatica se eseguiti in maniera sequenziale, e che, diciamo, in questi dodici semitoni c'è più o meno tutta la nostra possibilità di scelta, cioè quella che abbiamo noi qui nella nostra musica occidentale, chiaro, nel nostro sistema. In poche parole si tratta solo di capire quali intervalli suonare, di scegliere degli intervalli, e quindi creare delle strutture, che sono le scale, gli accordi, e via dicendo. La prima struttura che andiamo ad affrontare è proprio la triade maggiore, ovvero, nell'insieme di intervalli che abbiamo a disposizione nella nostra ottava, suoniamo soltanto la tonica, o fondamentale, la terza maggiore e la quinta giusta. In questo caso stiamo partendo da Do e quindi saranno Do, Mi, Sol. Se suoniamo insieme queste tre note, in maniera armonica, quindi, e non melodica, quindi una per volta, otteniamo il cosiddetto accordo maggiore, nella sua forma base. Un accordo che esprime un senso di trionfo, allegria e solarità, un colore molto importante nella musica. Diamo un'occhiata alla partitura che ho preparato per voi. Sono presenti tutte le triadi maggiori che troviamo all'interno di un'ottava e le nomenclature delle stesse sono scelte selezionando quelle più convenienti, cioè quelle dove le alterazioni che vengono fuori non sono doppie, eccetera, eccetera. E sono messe per quarte ascendenti, per praticità, ok? Perché praticamente andiamo ad aggiungere alterazioni mano a mano che ci muoviamo una quarta su. Questo è legato al circolo delle quinte, argomento che affronteremo più in là. Il mio consiglio è leggete quello che è scritto, memorizzate queste triadi il prima possibile e poi andiamocele a eseguire tutte nei primi quattro tasti. Nei primi quattro tasti, mi raccomando, la posizione della mano. Credo non ci sia bisogno che lo ripeta. Pollice, eh? Fra il fretta e il pallino, un po' piegato a centro manico. Nocche parallele alle corde e quando premo un tasto le dita precedenti vanno giù. Non sono per aria, ok? Questo l'abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, ma non si ripete mai abbastanza. Benissimo, non ci resta che andare a eseguire queste triadi, cercando di dire magari ad altavoce o almeno pensare le note che le compongono, così da impararle. do, mi, sol, do, fa, la, do, fa, si bemolle, re, fa, si bemolle, mi bemolle, sol, si bemolle, mi bemolle, la bemolle, do, mi bemolle, la bemolle. Mi raccomando, le dita precedenti giù, quindi se faccio la bemolle, un, due, tre, quattro sono giù, quando mi sposto sul do, un, due, tre sono giù, quando suono il mi bemolle, solo l'uno è giù. E poi ribatto la tonica in modo da tornare nei quattro quarti, diciamo così, stare nei quattro quarti e non utilizzare un tempo di tre quarti, insomma. Per rendere più interessante questo esercizio vi ho preparato una bella base e tanto per cominciare ce la suoniamo insieme. Via! Memorizzate le note di queste triadi e pensatele mentre le seguite o ditele ad altavoce. Ecco, adesso le diremo ad altavoce insieme, per il primo giro e per il secondo no. Do, mi, sol, fa, la, do, si bemolle, re, fa, mi bemolle, sol, si bemolle, la bemolle, do, mi bemolle, re bemolle, fa, la bemolle, sol bemolle, si bemolle, re bemolle, si bemolle, re bemolle, si, re diesis, fa diesis. Con la corda a vuoto ora. Mi, sol diesis, si, la, do diesis, mi, re, fa diesis, la, sol, si, re. Tutto da capo. Come, 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 come. Um, come, come, come. O, come. My, sol, come. Grazie a tutti Con questo esercizio abbiamo memorizzato tutte le tridi maggiori e le abbiamo suonate in una parte del basso che non favorisce l'imparare le cose in maniera geometrica. Diciamo che questo è un po' un limite degli strumenti tipo basso o chitarra, cioè che si tende a imparare le cose per geometrie e non per note. Ecco, suonando nei primi quattro tasti questo problema un pochino si supera. Siamo costretti a praticare tante geometrie diverse perché appunto qui siamo costretti a usare anche le corde a vuoto eccetera eccetera. Ovviamente però non vuol dire che la tridi maggiore non abbia una sua geometria. Diciamo in generale le diteggiature lungo il manico che si utilizzano per la tridi maggiore sono fondamentalmente 2 barra 3. Cioè le più utilizzate sono sicuramente 2 1 4 ok oppure 4 3 1 ma spesso si utilizza anche quella con l'avanzamento su 5 tasti che è 1 4 2. Nell'esercizio che segue andremo a costruire una nostra linea di basso utilizzando le triadi maggiori secondo la partitura che vi metto a video. Anche questa volta come la volta scorsa vi metto soltanto delle indicazioni ritmiche e delle sigle da seguire. Come vedete le sigle sono delle lettere senza alcuna estensione che rappresentano proprio l'accordo maggiore, quello composto dalla triade maggiore. Questa ritmica ha delle legature di valore. Cosa sono? Sono questi appunto segni che collegano due note e fanno sì che il valore della nota successiva si sommi a quello della nota precedente. Quindi questa ritmica è da suonare così. Quindi possiamo pensarla così. Se avete difficoltà a eseguirla solfeggiatevela prima e poi vedrete che non avrete alcun problema. Seguendo questa ritmica e suonando le triadi maggiori relative agli accordi indicati andiamo a costruire la nostra linea di basso cercando di essere abbastanza vari. Quindi non limitiamoci a fare sempre la stessa diteggiatura. Quindi variamo fra le diteggiature. Ok? E ovviamente scegliamo anche di prendere le note in posizioni diverse. Per esempio io posso benissimo partire da una tonica qui e prendere la terza e la quinta in basso. Oppure, visto che ho due misure dello stesso accordo molto spesso, semplicemente prendere una volta la tonica in basso e una volta la tonica in alto. Nessuno mi vieta anche di fare tonica quinta terza invece che tonica terza e quinta. Insomma, mettiamoci della creatività. Ok? Anche per questo esercizio vi faccio io un esempio suonato. Dopodiché vi metterò entrambe le basi in coda per lavorare voi. Andiamo a suonare. Grazie a tutti. 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 Cambiare l'ordine terza-quinta, quinta-terza, anche sempre per variare. e soprattutto praticare un po' tutte le diteggiature che abbiamo visto. Quindi quando mi trovo nella posizione del manico dei primi quattro tasti, magari mi torna molto utile l'esercizio che ho fatto prima, che coinvolgeva le corde a vuoto. Quando sono in giro le diteggiature, posso scegliere fra le diteggiature proposte a seconda anche della comodità. Ad esempio, se suono il do maggiore qua, senza spostare la mano, ho a portata di mano anche il re maggiore. Con la diteggiare la diteggiare la diteggiare la diteggiare la diteggiare la diteggiare la diteggiata, quindi anche questo è un criterio che si può utilizzare del mi muovo il meno possibile, o comunque ottimizzo i movimenti, perché ottimizzando i movimenti si sbaglia meno. Ecco, c'è poco da fare. Quindi muovetevi molto, pensate le note, questo vi aiuterà anche a consolidare la vostra conoscenza delle note sulla tastiera, che già dovreste avere, però ecco, come dire, più si consolida e meglio è, perché le note sulla tastiera si devono sapere. Quindi questo è un lavoro da fare pensando alle note e non alle geometrie, mi raccomando. A questo punto non mi resta che lasciarvi suonare sulle due basi, quindi ci sarà prima la base dell'esercizio per le triadi nei primi quattro tasti e seguirà questa base che abbiamo appena fatto. E non mi resta che augurarvi buona pratica e soprattutto buona musica. Alla prossima, bassisti! Alla prossima, bassisti! A presto! 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 A presto!